Un'interpellanza rivolta al presidente della regione Luciano D'Alfonso che arriva dopo segnalazioni di associazioni e cittadini di comuni interessati dalla realizzazione di una piattaforma per il trattamento e il recupero dei sedimenti di dragaggio fluviali e marino costieri. Il nocciolo della questione ruota intorno ad una contraddizione tra carte e stato effettivo dell'area. Se da un lato l'area interessata a località Piano di Sacco a città Sant'Angelo risulta come zona industriale. Dall'altra sono i residenti a denunciare che quelle aree sono a vocazione prettamente agricola e soprattutto da quelle aree arrivano alcuni dei più blasonati prodotti da Abruzzo a marchio DOP e IGT. Sì, intanto è una battaglia che stiamo conducendo ormai da mesi con tutta una serie di associazioni ambientaliste e comitati. Abbiamo partecipato al comitato via regionale, abbiamo interessato i massimi vertici della regione Abruzzo per bloccare quest'operazione che a nostro avviso impatta fortemente sull'ambiente e sul territorio. Parliamo di Piano di Sacco di città Sant'Angelo dove una ditta vorrebbe insediare questo impianto di trattamento dei sedimenti di dragaggio e noi diciamo no per due motivi. Uno perché c'è un forte impatto ambientale e quel territorio pur essendo industriale ha vocazione agricola e non ha tutta una serie di servizi affini che potrebbero mettere in sicurezza il territorio. Secondo l'interpellanza quell'area nonostante sia stata denominata industriale non sarebbe dotata di fognature, impianto di depurazione, antincendio, relative vasche. Infine i Cinque Stelle muovono dubbi anche sulla società che dovrebbe occuparsi dell'opera. Abbiamo anche fatto rilevare che la ditta proponente comunque è stata interessata a una grande inchiesta, quella sul dragaggio del porto di Pescara e chi viene interessato in un'inchiesta che riguarda smaltimento di rifiuti a nostro avviso, secondo la nostra visione della politica, non può continuare a gestire quel tipo di prodotto. Quindi ho presentato un'interpellanza in Regione Abruzzo depositata l'altro ieri, mi dovrà rispondere il Presidente della Regione Abruzzo al quale chiediamo di intervenire prepotentemente e bloccare questa operazione. Ho interessato il Comitato Via per l'ennesima volta perché si dovrà esprimere a breve. Le associazioni hanno presentato tantissime osservazioni tecniche specifiche e amministrative e ritengo che questa procedura vada bloccata.